Cari amici, abbiamo iniziato l'anno 2019 all'insegna della professionalità e soprattutto con risolutezza. Due elementi molto importanti, professionalità e risolutezza, per avere successo nella nostra attività. Abbiamo iniziato sia come docenti che come studenti questo importante percorso in Forever Living, la prima scuola di network marketing dell'azienda Forever Living Italia, che ci dà grandi, grandi soddisfazioni. A tutti voi un grande, grande ringraziamento per questo impegno e soprattutto per il successo che avremo come Forever Living.